Nemmeno è il tempo di terminare il primo consiglio comunale del nuovo governo cittadino di Pesaro che il centrodestra si riunisce subito per esprimere la propria parere sulla giunta Biancani che secondo loro non è frutto di merito e competenze bensì di accordi elettorali e correnti politiche. Sempre le stesse persone, non da 5 anni ma mai da 10 anni addirittura per alcuni assessori è il terzo mandato. Quindi quello che noi contestiamo su questa scelta che manca veramente, mancano energie nuove, manca innovazione sono sempre le stesse persone. Questo perché abbiamo visto che anche durante la campagna elettorale addirittura prima della campagna elettorale quando ancora non era stato scelto se candidare Biancani, Vimini o chiunque altro chiaro che queste scelte sono state fatte non tanto su dei contenuti, su un programma, su una visione della città ma proprio su una spartizione di poltrone a livello di correnti interne del Partito Democratico e inoltre anche per dare visibilità, per premiare certi personalismi, certe persone. E questo lo dimostrano i fatti sotto gli occhi di tutti. E questo è ancora più inaccettabile perché comunque sembra veramente che quasi... noi l'abbiamo definito un poltronificio, come un lavoro a tempo indeterminato. Il centrodestra avanza poi una proposta, visto l'aumento delle indennità dei sindaci voluto da Roma qualche anno fa, che arriva quest'anno al suo apice. Da qui dunque la richiesta di donare il 30% di quest'ultimo alla città e ai cittadini. Le recenti modifiche legislative, addirittura un sindaco prende 9.666 euro l'orde e un assessore più di 5.796 euro l'orde. Faremo una mozione proprio precisa su questo per richiedere una riduzione del 30% di questi stipendi. A fronte che anche un'altra cosa vorrei chiarire. Noi veramente siamo fieri, siamo orgogliosi di far parte di questa... di essere qui in Consiglio Comunale. Faremo chiaramente una opposizione molto concreta, molto incisiva, corretta. Però quello che anche qui vorrei capire, far capire un attimino ai cittadini per proprio togliere qualsiasi equivoco, guardate che un consigliere comunale che partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Comunale, partecipa a tutte le commissioni di quali fa parte, partecipare tante volte al Consiglio Comunale dura anche 7-8 ore. Quindi se partecipa a tutte queste riunioni un consigliere comunale massimo riuscirà a percepire nell'anno 2.000 euro l'orde. Questo non è che vale solo per i consiglieri dell'amminoranza, ma per tutti i consiglieri. Una parentesi viene poi aperta anche sul tema delle società partecipate, dove il centrodestra critica la scelta di Biancani di non aver dato nessun posto all'opposizione e che definisce come un parcheggio degli assessori mancati. Gli organi direttivi di queste partecipate spesso vengono, tra virgolette, parcheggiate dalle persone che hanno chiesto di diventare assessori, non sono stati accontentati, quindi in qualche modo viene data loro un altro ruolo all'interno di queste partecipate, sembrano quasi dei parcheggi, parcheggi comunque pagati in maniera, pagati autamente.